Musicalmente parlando ho cominciato la mia carriera fra virgolette nel 92. Come tutti in cantina, come tutti con il rock, il primo gruppo è stato in lunedì chiuso, fino al 2000 ci siamo trovati a suonare. Abbiamo vinto la selezione regionale dell'Accademia della Canzone di Sanremo con Cowboy nel 98. Siamo andati a Sanremo a fare la finale nazionale, siamo andati senza batterista quella volta. Abbiamo suonato con la batteria in playback e il presidente di giuria era Golzi, che è il batterista di Mattia Bazzar. Quindi ci siamo fregati con le nostre stesse mani. Poi nel 2001 ho vinto il Festival della Grecia Salentina, poi storia recente nel 2003 a ottobre mi sembra ho vinto questo premio. Sì, qualcuno ha detto che la M sta per Marino, perché io mi chiamo Marino di cognome, invece la M sta per Musica Media Soundcheck, che mi ha permesso di conoscere parecchia gente interessante. Spero di essere io altrettanto interessante per loro. Il sogno da parte mia non è quello di diventare famoso, di fare dei soldi, ma di poter assolutamente vivere delle cose che scrivo, delle cose che faccio. Ellie, cosa possiamo dire ancora su Angelo Marino? C'è ancora da dire, ad esempio il fatto che sta realizzando un cd che probabilmente uscirà in primavera 2007. Sì, lo sta registrando presso il Digital Lake Studio di Omenia, dai fratelli Gallo, che salutiamo. Per contatti lui ha messo a disposizione la sua email, che è angelilli-alice.it Perfetto, quindi non ci resta che sentire Angelo che canterà su questa base il pezzo col quale ha vinto Musica Media Soundcheck. The Great Pretender The Great Pretender